Le marche restano in zona gialla, la conferma dal governatore Francesco Acquaroli. Intanto il comitato tecnico-scientifico smentisce le voci circolate su un parere positivo a un allentamento delle misure anticontagio per bar e ristoranti. 16 positivi su oltre 5.000 tamponi e del 65% l'adesione allo screening scuole sicure promosso dal comune di Pesaro. Il sindaco Ricci scrive alla regione, se non farete voi tamponi agli studenti marchigiani, ripeteremo l'operazione alla fine del mese. Terminate le scorte di plasma iperimmune, l'appello di Avis e del direttore del centro trasfusionale di Marche Nord, Carlo Pazzaglia. Fano TV tra le corsie dell'ospedale San Salvatore di Pesaro. Ecco i frigoriferi che conservano le sacche a meno 30 gradi. E' gratis anche quest'anno all'ampliamento del suolo pubblico per 100 attività economiche di Fano, minori entrate per le casse comunali di 300.000 euro. Progetti mancanti e finanziamenti che sfumano il sindaco Massimo Seri, bacchetta Stefano Guzzi per le dichiarazioni sulla difesa della costa. L'assessore non faccia Salvatore della Patria, pensare male qualche volta ci si azzecca, piuttosto si impegna a trovare i fondi per le scogliere di Metauriglia. A 35 anni ed è già nell'Olimpo degli Ingegneri la storia del famnese Marco Salucci, migrato a Trento, che ha ricevuto il riconoscimento da una prestigiosa rivista internazionale del settore delle nuove tecnologie. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo questo nostro telegiornale con la buona notizia che arriva per la nostra regione. Le Marche rimarranno in zona gialla anche la prossima settimana. Intanto, come avete sentito dal nostro sommario, il Comitato Tecnico Scientifico ha smentito il parere positivo sull'apertura serale dei ristoranti. Sentiamo. Non c'è alcun via libera del Comitato Tecnico Scientifico alla riapertura della ristorazione nelle zone e negli orari che attualmente ne prevedono la chiusura. Una doccia fredda che arriva proprio con la precisazione dello stesso CTS, per chi aveva sperato, in una riapertura serale dei ristoranti in zona gialla dal 5 marzo. E invece, spiegano gli esperti, una rimodulazione dei pacchetti di misure potrebbe modificare l'efficacia nella mitigazione del rischio. Nel verbale della riunione del CTS del 26 gennaio 2021, continuano gli scienziati, vi sono indicate anzi alcune considerazioni sul rafforzamento delle misure restrittive, adeguandole alle caratteristiche strutturali dei locali e alla tipologia del servizio reso. Gli esperti ricordano che la situazione epidemiologica attuale, pur mostrando una lieve diminuzione dell'incidenza nel paese, evidenzia ancora un rischio moderato alto con un elevato impatto sui servizi assistenziali nella maggior parte delle regioni e province autonome, e sottolineano come il settore della ristorazione presenta alcune criticità connesse all'ovvio mancato uso delle mascherine, con potenziale aumento del rischio in presenza di soggetti asintomatici. In più, secondo il CTS, vi sono anche altri due fattori da considerare prima di allentare le misure, ovvero la ripresa delle scuole in presenza, per la quale è necessario attendere almeno 14 giorni per valutarne l'impatto, e l'andamento in Europa della pandemia, che rimane a livelli di alta circolazione, registrando tra l'altro una possibile maggiore trasmissibilità dovuta alle varianti del virus. Gli esperti quindi rispondono così alla richiesta avanzata dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla riapertura di pubblici esercizi, passando la decisione nelle mani del decisore politico. Un duro colpo per il ristoratore pesaresi Umberto Carriera, che aveva esultato in un video postato sul suo profilo Facebook, una volta presa la notizia, poi smentita. Gioco delle parti, CTS versus governo, scrive Carriera in un post su Facebook, è proprio questo, scaricare la responsabilità delle scelte all'altro, ma un fatto è certo, continua il ristoratore. Il governo Draghi ha come primo punto in agenda la riapertura dei ristoranti a cena in zona gialla e da pranzo in zona arancione, con l'abolizione del coprifuoco. E adesso l'aggiornamento sui dati. Nelle Marche, nelle ultime 24 ore, sono morte 6 persone. 5 vittime erano della provincia di Ancone e una di Fermo. I nuovi contagi sono 414, di cui 91 nella provincia pesarese. Negli ospedali ad oggi ci sono 606 pazienti ricoverati per coronavirus, 74 ed agenti in terapia intensiva, meno 2 rispetto a ieri, e 151 in semi-intensiva, un dato rimasto invariato. E tra le terapie anti-coronavirus c'è il plasma iperimmune. Oggi Angelica Panzieri è stata al centro trasfusionale della San Salvatore, insieme al presidente dell'Avis provinciale, al direttore Carlo Pazzaglia, che ci ha mostrato dove vengono conservate queste sacche della parte liquida del sangue. Sacche che però stanno scarseggiando. E dunque servono nuovi donatori, persone che sono guarite dal virus. Questo è il plasma, suddiviso ovviamente per gruppi. Come vede, i cassetti cominciano a scarseggiare. Nel centro trasfusionale dell'ospedale Marche Nord, un intero congelatore, che va a meno 30 gradi, viene utilizzato soltanto per contenere le scatole di plasma iperimmune. Al momento vuote, poiché nonostante il nostro impegno quotidiano per la raccolta, le scorte stanno esaurendo, spiega il dottor Carlo Pazzaglia, davanti alle telecamere di Fano TV. L'appello dunque è chiaro. È necessario che i guariti dal Covid-19, se i doni, facciano la propria parte, e donino il plasma per aiutare chi è ancora malato. Marche Nord è in campo per la raccolta, fin dai tempi della prima ondata, ed è ancora la ricerca di donatori, non sempre facili da trovare. Il trasfusionale di Marche Nord ha iniziato a produrre plasma iperimmune dal mese di maggio, prima ondata. Noi abbiamo iniziato intensamente subito, raccogliendo soprattutto nei mesi di maggio, giugno, luglio, e abbiamo raggiunto una cifra notevole, perché in questo momento siamo a circa 170 sacche raccolte. È stato utilizzato tutto. Siamo continuamente alla ricerca di donatori. Questo è un problema grosso, perché non è facile, non è semplice trovare i donatori. Abbiamo purtroppo dei limiti di legge. I malati non tutti sono in grado di donare, perché continuano a stare male. Quindi noi, per forza di cose, dobbiamo cercare in continuazione. Lo scopo principale è quello di dare anticorpi pronti al paziente, perché questi anticorpi sono prodotti dai soggetti guariti, che hanno avuto il Covid, e che quindi, producendo loro stessi delle sostanze difensive, che sono gli anticorpi, riescono poi a combattere e a distruggere il virus. Questo è il concetto di base, è semplicissimo. Poi, tecnicamente, è molto più complesso, ma diciamo che l'utilità principale è quella di dare una difesa ulteriore ai malati di Covid. Ovviamente questo è un presidio terapeutico, cioè è solamente una parte della terapia che si fa a un paziente Covid. L'efficacia reale, come dicevo, in realtà è tutta da dimostrare, perché ci sono degli studi a cui noi, Marche Nord, abbiamo partecipato, studi a livello nazionale, e devono ancora essere pubblicati i risultati. Tutti questi dati ci aiuteranno a capire bene se funziona, però continuo a dire che questa è un'arma che in questo momento noi dobbiamo utilizzare, perché i clinici ce la richiedono. Ben definiti i criteri per donare il plasma, è necessario avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni, aver superato da almeno 14 giorni la malattia da Covid-19 e avere i requisiti per la normale donazione del sangue. Marche Nord, per la raccolta, aderito al protocollo della Regione Marche, assieme all'ospedale di Torrette, è fermo. Diverse le sacche partite dall'ospedale di Pesaro per raggiungere tutta la Regione, compreso anche il Covid Hospital di Civitanova. Si dona sempre il suo appuntamento ed è necessario prenotarsi allo 0721 31466. Un appello a compiere questo gesto di generosità arriva anche dall'Avis provinciale. La donazione di plasma iperimmune rappresenta una risposta importante e decisiva in questo momento pandemico. Ecco, da una sacca è possibile aiutare una sola altra persona. Quindi significa che ogni donazione è incredibilmente preziosa, soprattutto perché si è rilevata, decisiva nel risolvere quella sofferenza. Quindi una sacca guarisce una persona. Ecco, allora diventa importante proprio perché i malati di Covid sono tanti, allora devono, si spera, che possano essere tanti anche i donatori. E adesso parliamo di tamponi perché questa mattina a Pesaro è stato stilato il bilancio dell'operazione Scuole Sicure, 16 positivi su oltre 5.100 tamponi. Soddisfatto il sindaco Ricci che lancia un nuovo appello alla Regione. Serve uno screening periodico per le scuole medie e superiori, ha detto Ricci. Se la risposta sarà negativa saremo pronti a ripeterlo alla fine del mese. L'attuale fotografia ci dice che la scuola è sicura. È il primo commento del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, rispetto alle quattro giornate di screening organizzate dal Comune nelle scuole superiori pesaresi. 5.104 le persone che sono state tamponate, di queste 4.568 sono studenti e altri 536 sono suddivise tra docenti e personale ATA. In tutto 16 sono risultati positivi, 12 studenti e altre 4 tra docenti e personale ATA. A questo monitoraggio si aggiunge poi quello delle scuole di infanzia e nidi che ha visto sottoporsi a tampone 115 persone, tutte risultate negative. Il sindaco Matteo Ricci parla di esperimento riuscito dopo l'adesione altissima da parte dei ragazzi. Ed è davvero una grande operazione grazie all'Aile, alla Croce Rossa, alla Protezione Civile, alle scuole e ovviamente al Comune che ci ha creduto tanto. Sono dati importanti anche perché dimostrano che ad oggi la scuola è abbastanza sicura, sono 16 positivi. Però questi 16 positivi se non fossero stati scovati attraverso lo screening ne avrebbero infettati probabilmente qualche centinaio. E quindi è la dimostrazione che questi screening sono fondamentali per non richiudere la scuola, anzi per far sì che i ragazzi possano sempre di più andare in presenza nelle prossime settimane e concludere l'anno scolastico nel miglior modo possibile. Scriverò oggi ufficialmente al Presidente Acquaroli, all'Assessore alla Sanità, ai direttori dell'Asur per chiedere di fare loro questo lavoro per tutti gli studenti delle scuole superiori e delle scuole medie. Ci auguriamo che nel giro di una settimana ci venga risposto positivamente nell'interesse della scuola marchigiana positivamente e se così non dovesse essere noi siamo pronti con le nostre risorse con questa squadra straordinaria a fare un altro giro di tamponi tra la fine di febbraio e i primi di marzo sicuramente nelle scuole superiori e valuteremo anche la possibilità di farlo nelle scuole medie. Un lavoro coordinato da AIL insieme a Croce Rossa Protezione Civile Medici e Infermieri. È un buon inizio che va ripetuto va ripetuto in larga scala male non è andato nulla però cercheremo comunque di migliorarci per dare sempre un servizio migliore. Soddisfatto anche il presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi Riccardo Rossini che ha invitato l'amministrazione comunale a ripetere l'operazione ancora prima delle date ipotizzate dal sindaco. È davvero un grande risultato è quello che chiedevamo noi come associazione nazionale presidi da tempo chiediamo le vaccinazioni per il personale scolastico ma chiediamo anche lo screening di massa e soprattutto che si ripeta sistematicamente in questo periodo molto difficile gennaio-febbraio ogni 15-20 giorni. E rispetto ai due casi di focolai rinvenuti in due scuole medie di Pesaro Rossini è invitato ad intervenire subito anche con la chiusura degli istituti se necessaria. Se necessario bisogna chiudere le scuole capisco che la fascia d'età è come dire sensibile stiamo parlando di bambini e quindi anche con difficoltà tenerli a casa da parte delle famiglie quindi se non si chiude però si deve andare a tamponare a verificare e rendere sicure le scuole isolando i casi diciamo così positivi. Da poche settimane ha lasciato il suo pronto soccorso all'ospedale di Urbino dove è stato direttore fino allo scorso 31 dicembre e ora è di nuovo in campo si prende cura dei pazienti più fragili ricoverati nella RSA di Macerata Filtria affetti da Covid-19. Per il dottor Filippo Mezzolani il primo febbraio è cominciata una nuova avventura nata quasi per caso durante una conversazione amichevole con il direttore protempore del distretto di Urbino il dottor Paolo Marchionni che gli ha lanciato una provocazione perché non viene a darci una mano Macerata Filtria gli ha chiesto e il dottor Mezzolani ha accettato la sfida con entusiasmo e spirito di collaborazione. La RSA di Macerata Filtria è stata riconvertita in struttura Covid per fronteggiare le esigenze del territorio dell'area vasta nel momento in cui la seconda ondata aveva creato focolai in diverse strutture residenziali. A dottor Mezzolani gli auguri di buon lavoro. E adesso torniamo a fare perché per aiutare le attività economiche della città il Comune ha deciso di azzerare la tassa sull'ampliamento del suolo pubblico per tutto il 2021. 4.000 metri quadrati di suolo pubblico un centinaio di attività interessate e 300.000 euro in meno nelle casse del Comune. Il sindaco di Fano Massimo Seri e gli assessori Cucchiarini e Lucarelli hanno annunciato questa mattina la buona notizia per le attività commerciali. Coloro che nel 2020 avevano ottenuto un ampliamento del suolo pubblico gratuito potranno usufruire anche quest'anno della stessa occupazione senza oneri. Abbiamo fatto questa scelta anche rispetto ad altre realtà non essendoci un DPCM che consentì di fare questo lo facciamo in maniera autonoma e gratuita quindi non richiediamo alcuna risorsa per l'ampliamento della Tosa. Quest'anno infatti lo Stato non ha previsto alcun ristoro per i Comuni così l'assessore Cucchiarini ha colto l'occasione per sollecitare il Governo continuare a pensare ai territori per riuscire a loro volta ad essere vicini ai soggetti economici che stanno affrontando una crisi senza precedenti. Questo incide sulla finanza locale con risorse proprie di bilancio e speriamo che comunque come l'anno scorso il Governo diciamo appena si sarà assestato avrà riconoscerà che c'è ancora molto bisogno di essere a fianco delle attività produttive e dei territori e che magari pensi anche quest'anno di ristorarci e di magari sollevare da alcuni tributi o perlomeno una buona percentuale le categorie che sono più sottoposte a pressione fiscale. È un aiuto concreto per le attività ha aggiunto Eti e Lucarelli ma anche un investimento per l'intera città proseguirà infatti il progetto Fano & Plein Air che aiuterà anche chi non potrà beneficiare di questa misura. Siamo partiti dall'anno scorso con un progetto che ha funzionato molto bene a dipinto una città più bella da vivere all'aria aperta questo progetto Fano & Plein Air e riteniamo proprio che anche quest'anno debba esserci quindi il Comune di Fano farà la sua parte in supporto delle attività economiche ma soprattutto questo investimento aiuterà a dipingere un nuovo progetto che aiuterà tutta la città tutti gli altri comparti economici l'idea è portiamo gente nella città di Fano facciamo vedere quanto la nostra città è bella e quindi insomma portiamo economia facciamo girare economia nel nostro territorio. E misure straordinarie anche nella città di Urbino fino al prossimo 31 marzo le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico a servizio degli esercizi di ristorazione e di quelli per la somministrazione di alimenti e bevande saranno concesse gratuitamente la domanda deve essere presentata in via telematica e i maggiori dettagli sono disponibili sul sito del Comune La cronaca questa mattina un camion è rimasto incastrato sotto un ponte situato lungo la strada della bruciata Senigallia il camion che era guidato da un 57enne di origine greca nel tentativo di transitare sotto il cavalcavia che però era troppo basso per permettere il passaggio del mezzo si è incastrato provocando danni ingenti al veicolo e distruggendo la copertura del rimorchio il ponte invece è rimasto intatto e non si registrano persone coinvolte sul posto i vigili del fuoco A Pesaro invece la guardia costiera ha elevato sanzioni amministrative per un totale di oltre 1300 euro e sequestrato un esemplare di tonno rosso la pattuglia della capitaneria aveva notato il rientro di una unità di porto e durante la verifica all'ormeggio ha sorpreso due soggetti che trasportavano un contenitore termico dove all'interno è stato rinvenuto il tonno fatto a tranci con ogni probabilità pensando di sfuggere ai controlli infatti l'attività di pesca sportiva di tali esemplari è vietata in questo periodo dell'anno torniamo a parlare delle scogliere di Sassogna e di Metauriglia perché oggi il sindaco di Fano Massimo Seri ha replicato alle dichiarazioni rilasciate ieri dall'assessore regionale Stefano Guzzi a Guzzi non faccia il salvatore della patria a pensare male qualche volta ci si azzecca tirata ad orecchi del sindaco di Fano Massimo Seri al suo predecessore Stefano Guzzi che oggi riveste il ruolo di assessore regionale alla difesa della costa durante una riunione avvenuta ieri in comune con i rappresentanti dei bagnini e i tecnici a Guzzi aveva ricordato la mancanza di un progetto per l'ultimo tratto delle scogliere di Sassonia ma anche che sarebbero sfumati 4 milioni di euro per quelle di Metauriglia ma avrebbe cercato di recuperarli alcune imprecisazioni e le dichiarazioni rilasciate ai giornalisti però non sono piaciute al primo cittadino si onestamente non ho voglia di fare polemiche perché poi quando si hanno dei ruoli di responsabilità non possiamo perdere tempo su queste cose però c'è anche una questione di stile e francamente fare una riunione poi di nascosto vedere che l'assessore va a fare conferenza stampa rilasciare dichiarazioni non è bello e quando uno fa questo significa che qualcosina non è proprio lineare allora intanto lo ringrazio lui è la struttura che ha avuto la sensibilità di mettere in sicurezza allungando le tempistiche per la rendicontazione e quindi questa è una buona una buona cosa però poi dire che ci sono delle responsabilità mi sembra eccessivo perché c'è un cronoprogramma che prevede che ci ha fornito il provvitorato alle opere pubbliche per marzo 2022 l'ultimazione dei lavori in questi anni prosegue serie è stato fatto un ottimo lavoro infatti sono stati investiti 8 milioni di euro per la difesa della costa come mai accaduto prima inoltre aggiunge il sindaco il progetto di Metauriglia è completo ed è stato realizzato anche grazie a un dialogo con i residenti un appello faccio all'assessore che effettivamente faccia il suo ruolo e ottenga un grande risultato trovando le risorse per il 2023 per il secondo strancio di Metauriglia perché quella è la cosa importante sono 7 milioni ma noi ci accontentiamo di 4 per quello che riguarda Sassonia mi sembra che non è che non si sa nulla basta fare una passeggiata vediamo quello che si è fatto in questi anni oggi già stanno lavorando in queste ore per ultimare l'ultimo stallo poi c'è un tema che il progetto originario prevedeva questi stalli perché secondo loro l'effetto era funzionale per tutelare l'erosione della spiaggia se questo non è sufficiente bisogna fare un ulteriore stallo su questo il comune si è preso l'impegno di fare un progetto e anche qui precisa il primo cittadino non siamo in ritardo ma in piena sintonia con le tempistiche previste ci si chiede di copartecipare noi abbiamo copartecipato tante volte però per 150 mila euro non penso che la regione vada in dissesto i comuni non possono sempre intervenire copartecipare su tutte le questioni di cui non è neanche la competenza specifica che poi l'assessore lo sa ha fatto il sindaco in questa città per dieci anni quindi adesso al di là delle battute quindi è consapevole io penso che voglia bene a questo territorio che si impegnerà per fare questo e la prossima volta insomma con un po' di stile in più magari queste cose dichiariamole insieme senza farlo di nascosto uscendo dalla porta secondaria di una riunione fatta tra comune e regione e questa sera vi raccontiamo la storia di un giovane fanese trasferito a Trento che ha ricevuto un importante riconoscimento da una prestigiosa rivista internazionale del settore delle nuove tecnologie e lo ha intervistato per noi Letizia Marchionni è fanese a 35 anni ed è salito nell'Olimpo degli Ingegneri rendendo orgogliosa la sua intera città d'origine Fano si chiama Marco Salucci ricercatore del gruppo di ricerca Eledia presso l'Università di Trento Dipartimento del Disi e da quest'anno può vantare un importante riconoscimento quello di Associate Editor for Communication and Membership un ruolo assegnatogli per la rivista internazionale più importante nel suo settore ovvero la IAAA Transaction on Antennas and Propagation edita dalla IAAA un'importante e prestigiosa organizzazione mondiale no profit nell'ambito delle nuove tecnologie Si tratta di un ruolo unico di Associate Editor ce ne sono tanti Associate Editor for Communication and Membership ce n'è uno solo Lo scopo è quello sostanzialmente di cercare di promuovere le pubblicazioni all'interno della rivista non soltanto dentro la società ma anche al di fuori ovvero cercare di colmare questo gap che esiste tra quello che fa la comunità scientifica e i professionisti delle industrie con quello che poi effettivamente è la percezione anche delle persone che effettivamente poi quelle tecnologie utilizzano ogni giorno il mio ruolo sarà anche quello di cercare di inseguire quelli che sono i format più recenti per poter comunicare correttamente e poter dare più ampia visione possibile a tutti i lavori che sono pubblicati sulla rivista così come andare anche su tutti quelli che sono i canali social chiaramente il mio ruolo sarà quello di supervisionare tutto questo processo di rinnovamento da un punto di vista di comunicazione di quello che fa la rivista Dopo aver frequentato il liceo scientifico Torelli di Fano si è trasferito a Trento per continuare il suo percorso di studi acquisendo il dottorato di ricerca nella International Doctoral School in Information and Communication Technology dell'Università di Trento dove si è stabilito per avviare la sua carriera accademica e dove se non per una importante parentesi a Parigi in cui ha trascorso quattro anni di esperienza nei migliori istituti di ricerca francesi è rimasto a vivere fino ad oggi oltre al nuovo ruolo Salucci è revisore per numerose riviste internazionali edite da IAAA la prestigiosa organizzazione il cui scopo è quello di favorire la collaborazione e la comunicazione tra comunità scientifiche e mondo produttivo oltre al promuovere l'eccellenza e l'innovazione tecnologica a beneficio dell'umanità la IAAA conta l'adesione di oltre 450.000 ricercatori di tutto il mondo e comprende 39 società tra cui anche quella di cui fa parte Salucci la Antennas and Propagation la sua attività di ricerca è principalmente focalizzata su tecniche innovative di diagnosi non invasiva in ambito biomedicale ed industriale con particolare enfasi alle metodologie basate su intelligenza artificiale per applicazioni nel mondo reale è certamente un sogno nel cassetto che sta iniziando ad avverarsi ma io mi permetto di dire anche che la strada è ancora lunga mentre il sogno è diventare o comunque assumere delle posizioni accademiche successive diciamo a quella del ricercatore a tempo determinato quale sono questa è una pietra di questo muro di questa casa che sto pian piano costruendo cercando di farla più più solida possibile con chiaramente il duro lavoro ogni giorno e diamo spazio alle vostre segnalazioni la prima ci arriva da Rociano di Fano dove un nostro reporter di strada ci segnala infiltrazioni d'acqua e la mancata manutenzione del cimitero anche qui così come il cimitero centrale piove dentro i corridoi si allagano la struttura scrive il telespettatore che lancia un appello all'assessore Fabiola Tonelli ha bisogno di una ristrutturazione la seconda segnalazione invece ci arriva da Metauriglia queste foto sono state scattate nel sottopasso vicino alla chiesa chiediamo un intervento di pulizia ci hanno scritto per i residenti e gli operatori degli stabilimenti balneari e vi annuncio che lunedì sera a primo cittadino sarà nostro ospite il sindaco di Colli al Metauro Andrea Giuliani vedete in questo cartello tutti i numeri di riferimento per intervenire in diretta e subito dopo di noi le previsioni del tempo e la seconda delle otto puntate dei dolci e di carnevale vi ricordiamo che anche domani sabato e domenica andranno in onda due nuove puntate e questa era l'ultima notizia per questo momento dedicato all'informazione informazione che torna domani mattina alle 7 con la nostra rassegna stampa arrivederci alla prossima notizia domani mattina domani mattina domani mattina domani mattina domani mattina domani bomb Doc